Sì? Chiudi gli occhi. La fiaba del miracolo di primavera si chiama Abbraccio del cuore. Si sente ancora che... Benvenuti nel viaggio di American Love Art. Solo per oggi potete entrare anche voi, perché questo è un posto segreto. Proviamo a me che ti aspetto, ok? Meraviglioso. Grazie a tutti.